Musica Risorgimento, Gigi Cascello critica la scelta del nuovo presidente, pinto sprezzante verso il revisionismo storico e gli eccidi dei meridionali. Ottati, riaperta la SP12 e rientrati alcuni dei residenti evacuati. Agropoli, Covid Center senza personale, dalla Will FPL la denuncia. Pubblica assistenza, la colomba soccorsi opererà anche a Monte San Giacomo. Aia Sala Consilina, eletto il nuovo presidente, sarà Manuel Robilotta. Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura occupiamoci della nomina del presidente dell'Istituto per il Risorgimento, l'Istituto Nazionale per il Risorgimento, perché tra le tante voci di complimenti sulla nuova nomina del professor Carmine Pinto, arrivato alla guida dell'Istituto Nazionale per il Risorgimento, vi è anche una voce forte di dissenso verso il nome scelto dal ministro per i beni culturali. L'onorevole Gigi Cascello, deputato di Forza Italia, ha da subito manifestato forte scetticismo sulla nomina. Per l'onorevole Cascello, che noi abbiamo ascoltato, Carmine Pinto non può essere la persona giusta al capo di un così importante istituto, chiamato a far luce su quanto realmente è accaduto nel Risorgimento italiano, visto anche il suo sprezzante giudizio verso le nuove verità che emergono e che evidenziano quanto il regno delle due Sicilie e le popolazioni del Meridione abbiano pagato sia in termini di vita umane che dal punto di vista economico. Chi ha un giudizio così tagliente verso i nuovi studi, sottolinea Cascello, non è adatto a ricoprire quel ruolo. Ascoltiamo Gigi Cascello. Non c'è nulla di personale, per carità, conosco tra l'altro Carmine Pinto, non da oggi, sono studioso, tutto quello che si vuole, un docente all'Università di Salerno, però questo non è questione di fare del campanilismo e quindi di autoreferenzialità territoriale, per intenderci. Io ritengo che Carmine Pinto, anche da quanto ho letto dal libro della La Terza che ha pubblicato sul brigantaggio del Mezzogiorno, che ha un giudizio a tratti, direi, persino sprezzante nei confronti di una rilettura oramai non revisionista, ma per attenti studi fatti della verità di quanto è accaduto nel risorgimento italiano e quanto abbiano pagato le popolazioni meridionali, quanto abbia pagato il vecchio regno delle due Sicilie. Eccidi e non solo, quindi un revisionismo storico che meriterebbe un'attenzione maggiore e ritengo che un docente, uno studioso che ha un giudizio così trasciato su alcune verità storiche sia abbastanza imbarazzante che vada a guidare come direttore dell'Istituto del Risorgimento. Ma da questo punto di vista, ripeto, non è un giudizio il mio personale, è un giudizio sul criterio della nomina. Tra l'altro l'Istituto del Risorgimento vive un momento di grande difficoltà e probabilmente avrebbe meritato anche una nomina più attenta dal punto di vista manageriale perché ricordo che i dipendenti dell'Istituto non percepiscono alcune monumenti dal mese di marzo. Quindi da questo punto di vista io ho espresso un parere, vigilerò sul tutto, sarò molto attento e non mancherò, anche nella Commissione Cultura di cui faccio parte, quindi competente per i beni culturali, di vigilare perché tutto procede in una maniera di ora. Quindi insomma, onorevole, per lei oggi l'attenzione sulla ripresa della storia del Risorgimento magari merita maggiore attenzione e soprattutto maggiore obiettività? Io credo che meriti il mezzogiorno, la storia del mezzogiorno meriti maggiore rispetto proprio da parte degli studiosi, da parte di chi ha competenza e sicuramente il professore Pinto ne ha e quindi credo che la sua posizione ideologica più che di studioso da questo punto di vista debba essere quantomeno più equilibrata. Cambiamo argomento, lutto per la comunità di Caggiano e l'intero comprensorio valdianese è morta Agnese Morrone, simbolo della lotta al Covid che dopo il contagio dello scorso marzo venne ricoverata al Policlinico di Napoli dove rimase per ben 143 giorni di cui 18 intubata. Una volta guarita aveva iniziato un percorso di riabilitazione a Campolongo e tutto lasciava presagire il meglio, purtroppo però a seguito di un recente intervento chirurgico il suo cuore ha cessato di battere per l'insorgere di alcune complicanze. E andiamo avanti, ci spostiamo negli alburni, andiamo adottati dove proseguono i lavori per per il ripristino della sicurezza dopo la frana dello scorso 10 dicembre. La strada provinciale 12 è stata riaperta a senso unico alternato e sono rientrate nelle proprie abitazioni 19 delle 36 persone evacuate. Vediamo. Sta ritornando gradualmente alla normalità la situazione adottati dopo la frana del 10 dicembre scorso che ha provocato la chiusura della strada e l'evacuazione di 36 persone dalle proprie abitazioni in via precauzionale. I lavori di somma urgenza che l'amministrazione comunale sta portando avanti con lo stanziamento della regione campagna di 200 mila euro hanno portato al montaggio della barriera a livello zero, quindi a valle ed immediatamente dietro alle abitazioni interessate dalla frana. Questi lavori hanno permesso dunque di mettere in sicurezza la strada e di riaprirne il transito lungo il tratto urbano, riapertura avvenuta a senso unico alternato con traffico nei tratti interessati dal restringimento regolato da semafori operativi H24. Il sindaco Elio Guadagno ha spiegato che nelle prossime settimane, condizioni meteorologiche permettendo, sarà installato il secondo livello di barriera lungo il tratto di discesa della frana, consentendo così di ripristinare il transito a doppio senso di marcia e di far rientrare le ultime sette famiglie nelle loro abitazioni. Finora infatti sono rientrate nelle loro case 19 delle 36 persone evacuate, 17 quelle che ancora devono avere il via libera per poter ritornare nelle proprie abitazioni in tutta sicurezza. Il primo cittadino ha anche annunciato che nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo dei tecnici della protezione civile nazionale, oltre che regionale, per il riconoscimento dello stato di emergenza. Questione abbandono indiscriminato dei rifiuti, andiamo a Monte San Giacomo dove l'amministrazione comunale da qualche giorno è impegnata di nuovo a gestire la piccola emergenza legata proprio all'abbandono dei rifiuti sul territorio. La storia è sempre la stessa e i posti delle discariche a cielo aperto anche. Qualche giorno fa, dopo la segnalazione da più parti di cumuli di rifiuti abbandonati ai margini della strada Accio San Rocco, il Comune aveva provveduto a farli rimuovere. Questa mattina ancora all'opera un altro carico di buste da riaccattare lungo quella strada interna che collega Monte San Giacomo a Sassano. Una quantità enorme di immondizia, considerando la tipologia di rifiuto abbandonato e la quantità dello stesso, è il caso di dire che si tratta di incivili seriali piuttosto che occasionali. Questa mattina il sindaco Raffaele Accetta e i vigili urbani e gli operatori ecologici erano letteralmente con le mani nell'immondizia alla ricerca di qualche indizio per risalire ai responsabili tra la spazzatura sono stati trovati scontrini di spese recenti in diversi negozi che si trovano in un comune, in particolare post-it con appuntamenti dal dentista, buste regalo con sopra i nomi dei destinatari, forse la volta buona, per acciuffarli e denunciarli. E andiamo avanti, andiamo ad Agropoli. Manca il personale sufficiente per la gestione del Covid Center di Agropoli. una situazione da tempo denunciata e che ha spinto la Will FPL ad inviare una richiesta di immediato intervento all'Aslo di Salerno, denunciando anche poca attenzione al centro Covid di Agropoli. Vediamo. Ed anche all'ospedale di Agropoli, per altri motivi, arrivano segnalazioni su problematiche legate alla struttura sanitaria. Ad evidenziarle è la Will FPL Salerno che in una nota lamenta della carenza di personale infermieristico e di supporto di operatori sociosanitari per il reparto Covid del nosocomio di Contrada Marrota. L'ospedale, si legge nel comunicato della sigla sindacale, da mesi è diventato un punto di riferimento nel Cilento per la lotta al virus, ma tuttavia si registrano carenze di personale che rendono più difficoltose l'assistenza ai pazienti. Da qui la richiesta avanzata all'Aslo Salerno in questa fase di duro contrasto al coronavirus. L'Aslo, scrive la Will FPL, deve garantire i livelli di sanità sufficienti per il comprensorio a sud di Salerno. Da tempo stiamo denunciando una mancanza di attenzione per questo presidio che resta fondamentale anche in questo periodo di emergenza sanitaria. Ci aspettiamo dall'Aslo l'attenzione giusta affinché le attuali maestranze non siano costrette a turni estenuanti per garantire le giuste cure a chi soffre e combatte contro il virus. E parliamo ora di scuola in vista della scadenza per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021-2022. Il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula ha deciso di aprire le sue porte per far conoscere l'istituto e gli spazi dedicati agli studenti. Lunedì prossimo porte aperte ma solo su prenotazione. Vediamo. Il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula pur nell'emergenza non rinuncia ad offrire la possibilità di visitare l'istituto ai genitori e ragazzi che frequentano le terze classi delle scuole secondarie di primo grado. Lunedì prossimo 11 gennaio Open Day speciale per il liceo scientifico di Padula che a seguito prenotazione consentirà l'accesso all'edificio per visitare laboratori, biblioteca, aule e gli ambienti destinati ad ospitare gli studenti. In vista della scadenza delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021-2022, previsto per le ore 20 del 25 gennaio, il liceo Pisacane punta a rendere la scelta sempre più consapevole e a fornire ogni utile strumento di valutazione per aiutare così i genitori e alunni nella scelta che sarà determinante anche per il futuro lavorativo e per il percorso universitario che si intende intraprendere. Durante la giornata di visite dell'istituto è stato inoltre predisposto un servizio aggiuntivo che consentirà ai visitatori di effettuare le iscrizioni direttamente in sede con il supporto dei referenti scolastici. Per consentire le visite l'istituto ha adottato ogni utile misura di sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Per tale ragione è necessario prenotare la visita dell'istituto contattando direttamente la segreteria del liceo scientifico Pisacane. Inoltre sarà anche possibile conoscere meglio l'offerta formativa dell'istituto che comprende quattro indirizzi di studio che sono liceo scientifico ordinario, liceo delle scienze applicate, potenziamento biomedico e liceo quadriennale. Per conoscere i percorsi scolastici offerti dal liceo Pisacane inoltre è stato organizzato un nuovo open day online previsto per venerdì 15 gennaio a partire dalle ore 18 fino alle ore 20 utilizzando la piattaforma Google Meet. Per poter partecipare è possibile effettuare la prenotazione attraverso la sezione orientamento del sito www.icpadula.edu.it e compilare il modulo di prenotazione presente nella sezione dedicata dove è possibile anche trovare le brochure informative. Torniamo ora a Monte San Giacomo ma per una lieta notizia. Da ieri infatti è attiva la nuova collaborazione tra Colomba Soccorsi di Atena Lucana e la Protezione Civile di Monte San Giacomo, un servizio ambulanza a disposizione dei cittadini. Vediamo. La Colomba Soccorso, l'associazione di volontariato presieduta da Antonio Langone che si occupa da 16 anni di pubblica assistenza, ha una nuova sede. A Monte San Giacomo è stata inaugurata ieri sera con una cerimonia in forma molto ristretta, messa a disposizione dalla Protezione Civile Locale nella loro sede che si trova nella villa comunale Enrico 40. Il sindaco Raffaele accetta e il coordinatore Peppino Petrizzo si sono attivati per questa nuova collaborazione, un servizio importante per essere sempre più vicini alla comunità. La Colomba Soccorso di Atena Lucana ora opererà anche su Monte San Giacomo grazie ai numerosi volontari su cui può contare. Attualmente sono circa 30. L'iniziativa parte con i trasporti sanitari, quindi un servizio ambulanza a disposizione di chi abbia bisogno, non necessariamente in situazioni di urgenza. Si può contattare l'amministrazione comunale o la Protezione Civile per usufruirne gratuitamente, anche per essere accompagnati in ospedale a fare una visita, fa sapere il Presidente. Non avendo un servizio di ambulanza in paese, ha spiegato il coordinatore della Protezione Civile Petrizzo, si è pensato ad una collaborazione e abbiamo subito trovato la disponibilità del Presidente Langone, che con i suoi volontari è già stato presente in occasione di alcuni eventi a Monte San Giacomo. Visto il protrarsi dell'emergenza Covid era necessaria la loro preziosa assistenza. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg, torniamo a parlare della tratta ferrata sicignano Lago Negro, perché dal Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania arriva la chiusura ad un eventuale investimento sulla tratta ferrata. Parole che il Comitato per la riattivazione della tratta commenta polemico e con tono ironico. Magari i bus per l'utilizzo, sono meglio i bus per l'utilizzo degli spazi pubblici. Vediamo. La visione di futuro per il Vallo di Diano si arresta sull'ipotesi di potenziare i collegamenti attraverso la riattivazione della tratta ferrata sicignano Lago Negro, che negli ultimi cinque anni avrebbe perso la sua caratteristica di priorità. Pare infatti che il Presidente della Commissione Trasporti, Cascone, avrebbe dichiarato che la ferrovia non è una priorità. Parole che non sono piaciute ai membri del Comitato per la riattivazione della tratta ferrata, che in una nota ricordano come, per il Presidente De Luca, la stessa tratta, appena cinque anni fa, era considerata prioritaria. Una beffa per il Comitato, a cui si aggiungerebbe anche una disinformazione di massa della politica. Ricordando come, secondo un recente studio di fattibilità per la riattivazione della tratta, occorrerebbero 160 milioni ed elogiando la visione futuristica di comuni come Battipaglia, Agropoli, Salerno, Vallo della Lucania e fino anche sicignano, dal Comitato si torna a fare il punto sulla situazione dei collegamenti nel comprensorio valdianese. Nel Vallo di Diano, scrivono polemici, forse bastano gli autobus sostitutivi e le macchine private, sicuramente più comodi per la vendita di spazi pubblicitari, riferendosi alla campagna elettorale del Presidente della Commissione Trasporti, che ha utilizzato i bus e il servizio pubblico per promuovere la sua immagine. Tale lungimirante visione, continuano dal Comitato, si sposa con l'incentivo del turismo che nel post-Covid salirà ancora di più alle stelle, dato che in Cilento si arriva tranquillamente in treno, mentre per raggiungere il Vallo di Diano bisogna essere patentati e automuniti. Senza considerare le persone a ridotta mobilità, sottolineano ancora, non contemplate nella visione di futuro che si evince da alcune dichiarazioni. Che la ferrovia serva è in dubbio, che sia funzionale e certo, il problema è la volontà politica. Siamo sicuri, si chiedono in conclusione, visto quanto accaduto nella fase di emergenza epidemiologica, che il futuro sia su gomma. Altrove hanno accertato che non è così. Nel Vallo, in omaggio a Trenitalia, sono in ritardo. Terminato, terminate le festività natalizie e ora è il momento delle premiazioni sui numerosi concorsi che sono stati realizzati in questo periodo. Successo per la prima edizione del concorso a Parater Natale proposto dalla Proloco di San Pietro Altanagro. Annunciati i primi tre classificati sia per la categoria albero di Natale che per la categoria presepe. Vediamo. Si è chiuso con successo il concorso di Natale promosso dalla Proloco di San Pietro Altanagro con lo scopo di premiare il miglior addobbo natalizio e il miglior presepe. In tanti hanno inviato la foto scattata ai propri addobbi di Natale, quindi all'albero o al proprio presepe. Poi pubblicate sulla pagina Facebook della Proloco e votate con un like fino al giorno dell'Epifania. Le tre foto più votate dovevano essere premiate proprio nella giornata del 6 gennaio, ma vista la grande partecipazione al concorso del tutto inaspettata, hanno spiegato gli organizzatori, le operazioni di conteggio hanno richiesto più tempo del previsto e i vincitori sono stati annunciati ieri. Nel ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto le opere e i concorrenti che hanno partecipato a questa iniziativa, quest'anno in chiave Social Edition per via delle restrizioni dovute al Covid-19, la Proloco di San Pietro ha quindi annunciato i tre premiati, sia per la categoria albero di Natale che per la categoria presepe. I primi tre classificati per ogni categoria riceveranno dei buoni acquisto da 175 e 50 euro da spendere nelle attività commerciali del paese. Il concorso, alla sua prima edizione, ha avuto lo scopo di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nell'abbellire gli spazi, interni ed esterni, per decorare e illuminare il comune, al fine di rivivere la magia del Natale in una unione virtuale, nel particolare momento che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. E ora lo sport cambio al vertice della sezione AIA di Sala Consilina. Manuel Robilotta, eletto nuovo presidente, sostituisce Giampiero Caffaro. Importante novità per i fischietti valdianesi. Il nuovo anno, oltre ai buoni propositi, ha portato in dote il cambio di guardia alla presidenza della sezione arbitri di Sala Consilina. Come previsto, infatti, è stato eletto il nuovo presidente, che sarà Manuel Robilotta. Dopo ben otto anni, dunque, si è chiuso il mandato per Giampiero Caffaro, leader uscente che durante questo lungo percorso ha collezionato brillanti risultati grazie all'ascesa di diversi arbitri, i quali hanno raggiunto massime categorie sia a livello regionale sia nazionale. Un importante riconoscimento per Robilotta, domenica scorsa guardalinee, durante la gara della sedicesima giornata di Serie A, disputata tra Sassuolo e Genua, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 2 a 1. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di un'emozionante cerimonia, segnata dal ricordo di Antonio Parrella, fondatore della sezione AIA di Sala Consilina, scomparso pochi mesi fa. Conclusasi poi con un in bocca al lupo al neoeletto presidente. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.